Just for one day we become a hero. Voi mi direte ma che cosa c'entrano queste parole con questo film? Bene, c'entrano e come? E questo ha ragione del fatto di quanto la musica sia importante per comprendere al meglio un'opera e quanto a volte il cinema si ispiri a una canzone e quando in tre minuti riesce a rappresentare un concetto così ampio come dimostra questa canzone del grande David Bowie, composta e scritta nel 1977, una canzone d'amore, un inno all'amore, un inno al coraggio, un inno ad essere proprio degli eroi. Infatti lui scrisse questa canzone quando era a Berlino nel suo studio di registrazione e quindi vedeva questi due ragazzi, questa giovane coppia che si incontrava poi nel muro di Berlino però poi c'è un aneddoto divertente, infatti il produttore di David Bowie del tempo disse che in realtà era lui il protagonista di quella storia d'amore e che è veramente molto molto interessante. Ma adesso ricolleghiamoci al grandioso film dell'anno scorso di Taika Waititi ovvero Jojo Rabbit un film che ebbe riscontrò un successo mondiale di critica tanto che venne candidato agli Oscar e venne considerata una delle migliori commedie uscite nello scorso anno e proprio qualche tempo fa è stato messo sul catalogo di Sky e Now TV e quindi io l'ho recuperato perché era una grande mancanza ma adesso parliamo un po' del finale soprattutto ed è qui il punto che si ricollega alla famosissima canzone di David Bowie c'è quel finale meraviglioso che è una cornice straordinaria di tutto quello che ha voluto rappresentare Taika Waititi una commedia veramente immensa che era anche azzardata ecco poteva veramente dar fastidio a qualcuno ma è riuscito a rappresentarlo in modo egregio anche una situazione che non si appresta molto a una commedia ovvero la Germania nazista e la seconda guerra mondiale quindi è qui si denota la grandiosità del regista ma ora ricolleghiamoci quindi finalmente a questo finale finalmente c'è il personaggio di Jojo Rabbit è finita la guerra, è caduto il nazismo e quindi c'è l'ultimo saluto tra Jojo Rabbit e il suo amore Elsa e si trovano sul ciglio della porta pronti a darsi addio partono le note di Heroes di David Bowie e iniziano a ballare sul ciglio della porta e poi la pellicola si conclude ma qual è il significato di questo finale? prima di tutto ritorna il ballo il ballo che è stata protagonista per l'intera opera grazie alla mamma di Jojo interpretata da Scarlett Johansson poi candidata all'Oscar per questo ruolo che dice sono in guerra sono in guerra ricordiamolo balliamo la vita quando le cose andiamo male balliamo quando c'è quella bellissima scena quando lei balla e lui dice mamma perché stai ballando e lei dice bisogna ballare bisogna amarsi e lancia questo bellissimo messaggio in un momento così delicato e sarà proprio quello che darà il coraggio poi di sconfiggere questi regimi e poi di vincere la guerra e di ricostruire tutto quello che è stato distrutto da questo conflitto ballano e questo ritorna e ritorna e quindi poi alla fine dicono è finita la guerra finalmente possiamo amarci liberamente siamo stati degli eroi possiamo ballare balliamo la vita perché abbiamo vinto tu sei libera e siamo diventati degli eroi ecco quanto questa canzone ci centra così tanto e dà ancora più significato perché la canzone vuole lanciare questo messaggio siamo degli eroi noi che osiamo combattere combattere nel caso contro questi regimi siamo degli eroi noi che osiamo ad amare che è un sentimento così bello ma che ci porta così dolore ed è un eroe proprio il personaggio di Jojo Rabbit che fa un passaggio da lui che era un fanatico del nazismo ad apprezzare gli ebrei e a capire che in realtà sono uguali a lui e tanto che se ne innamora ed è proprio questo che poi farà accadere il regime e fa capire anche quanto gli sia fatto un lavaggio del cervello e di quanto questi ideali entrino nella loro testa fino a distruggerli e quindi serve una canzone serve un inno a dimostrare di quanto sia sbagliato e di quanto ognuno di noi può essere un eroe in qualsiasi condizione in qualsiasi momento storico e che tutti possiamo cambiare la nostra immagine la nostra idea del mondo cambiare i nostri ideali sbagliati e insieme possiamo combattere il male che c'è quindi il messaggio balliamo la vita siate degli eroi ed è perfetto perfetto la canzone cioè raga pelle d'oca pelle d'oca quando appare la canzone poi ci ragioni un po' su e dici no vabbè qui siamo di fronte alla perfezione quindi che dire ve lo consiglio cioè il film sta su sky sta su no tv andatelo a vedere cioè raga uno spettacolo un capolavoro e sicuramente cambierete la vostra idea su molte cose quindi che dire per questa puntata è tutto vi lascio il link in descrizione dell'intervista che ho fatto per il centro clinico Nemo ve la lascio in descrizione mi raccomando dateci un occhio e vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina Facebook per restare sempre aggiornati e il prossimo appuntamento sarà lunedì su Sirio con una grandissima puntata dove andremo a discutere delle presidenziali degli Stati Uniti quindi non mancate fateci un salto il link è sempre in descrizione e ci vediamo a una prossima puntata a una prossima puntata e ci vediamo Grazie a tutti.